Il sindaco Luciani, continuano le polemiche sulla demolizione di Palazzo Sirena, c'è anche questa inchiesta che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Chieti? Non è la prima inchiesta che subisco, forse da quando faccio il sindaco sarà la decima. Fino ad ora tutte si sono concluse con archiviazioni, non ho dubbi che anche questa si concluderà con l'archiviazione, ma io voglio che il magistrato approfondisca così quando sarà terminata chi ha fatto quella denuncia e chi fa gli esposti avrà l'ennesima prova che noi facciamo le cose seguendo la legge, facendole bene, senza nessun dubbio. Per fortuna, lo ripeto spesso, faccio l'avvocato, perché se avessi fatto un altro mestiere il sindaco di Francavilla forse in questo periodo così contrastato non avrei potuto farlo. Si parla anche di spese che sarebbero state sostenute dall'amministrazione comunale di Francavilla sul vecchio Palazzo Sirena negli ultimi mesi, prima di questa demolizione. Siccome non sanno più cosa inventarsi, ora hanno trovato delle determine di manutenzione e di spese. Io rincaro la dose, non è che abbiamo speso 3-4 mila euro, abbiamo speso 600 mila euro, ma li abbiamo spesi dove? Nel Palazzo Sirena, ma questo lo sanno tutti i cittadini, perché la torre che vedete alle mie spalle, che è il Palazzo Sirena, contiene all'interno un auditorium che ha una sala multimediale perfettamente ristrutturata, un suo ascensore, delle sue scale. Abbiamo già fatto tre commissioni pubblici spettacoli per dotarla finalmente dalla data della sua costruzione di agibilità, quindi altro che 6 mila euro di spese. Ne abbiamo spese tante di più, però capisco che proprio non c'è più argomento, non esiste più un qualcosa che abbia un minimo di raziocinio. E vabbè, ma noi continuiamo con la nostra strada, come abbiamo sempre fatto, con l'affetto di tutti i cittadini. Messe da parte le polemiche con Sgarbi e con l'onorevole Gianni Melilla? Sì, io mi scuso anche, mi scuso anche se ho perso un attimo le staffe con l'onorevole Gianni Melilla, perché l'ho detto in più interviste, mi è dispiaciuto il fatto che lui non mi abbia chiamato personalmente e ancora oggi non lo faccio, per chiedere spiegazioni. Però detto questo, Gianni, io lo considero un amico, abbiamo avuto un diverbio, in politica ci sta, ci sta tutto, ci sta anche questo. Per quanto riguarda Sgarbi, Sgarbi chi? Perché non mi risulta che sia un'istituzione, non mi risulta che sia nulla Sgarbi, quindi voglio dire, fare la polemica con Sgarbi è proprio una cosa che non mi appartiene.